Prestazione solida degli uomini di Cocio Pasquini che conquistano la prima vittoria casalinga in Basketball Champions League, battuto l'Apoel Olon 98-84. Vittoria voluta e conquistata con energia e cinismo da un gruppo determinato a mostrare la sua vera natura. Il banco ai Sardenne e il Cocio Pasquini ieri sera ha mostrato un'altra faccia rispetto a quella vista nelle ultime sfide. Un gruppo unito e focalizzato a conquistare due punti in palio. Squadra affamata e pronta a sacrificarsi, pronta a lottare su ogni possesso e difendere con accortezza per tutti i 40 minuti. I numeri raccontano di una squadra solida con sei uomini in doppia cifra, a partire da Achille Polonara. Un cecchino nel primo tempo con tre bombe consecutive è fondamentale nei momenti topici, a referto con 16 punti e 8 rimbalzi. Ottimo lavoro in regia del duo Sbamford, a segno con 15 punti, 6 su 8 da 2, 9 assist e William Hatcher, 10 punti e 8 assist. Ottimo impatto di Daishon Pierre, partito in quintetto e protagonista nel secondo tempo e una grande cavalcata che si equisa con 16 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Bene anche Sean Jones, 12 punti e Marcolino Spissu, autore di due triple pesantissime nel momento di ricacciare indietro gli avversari. Da domani si pensa al prossimo impegno del campionato con la sfida contro Varese in agenda domenica.